Il consumo di droga da parte dei giovani sta assumendo i contorni di una vera e propria piaga sociale. Si inizia ad avvicinarsi alle sostanze stupefacenti proprio nei luoghi deputati all'educazione come le scuole. Per contrastare questo fenomeno, ora arriva la proposta di effettuare il test del Capeslo negli istituti scolastici della Lombardia. Proposta lanciata dal consigliere del gruppo Maroni-Presidente Lombardia in testa, Lara Magoni, membro della Commissione Sanità, che ha presentato un'interrogazione urgente all'assessore al welfare Giulio Gallera. I dati sul consumo di droga da parte dei giovani delineano uno scenario davvero inquietante, dice la consigliera, e questo ci porta a pensare alla necessità di mettere in campo azioni mirate al contrasto anche all'interno degli istituti scolastici. Sono convinta che la prevenzione, soprattutto se attuata in ambito scolastico, sia lo strumento più valido ed efficace per contrastare il fenomeno. La proposta della consigliera ha trovato condivisione da parte di Gallera, che si è detto disponibile a testare il terreno per verificare l'effettiva possibilità di effettuare questo progetto nelle scuole, cercando la collaborazione anche delle famiglie. Entrando nel merito della richiesta dei test anti-droga alcol da effettuare sui ragazzi nelle scuole medie superiori, ha aggiunto Gallera, ad oggi questa pratica viene effettuata solo in relazione a situazioni già accertate di abuso di sostanze che creano dipendenza. Serve però intervenire prima, secondo la consigliera. I programmi di prevenzione attuati nelle scuole, lamenta Magoni, consentono di raggiungere giovani in un'età in cui non hanno ancora consolidato comportamenti devianti attraverso l'acquisizione di informazioni, conoscenze ed abilità comportamentali utili al mantenimento e al miglioramento della propria salute. Ritengo, dice, che la collaborazione con le ATS, aziende sanitarie e dell'ufficio scolastico regionale si possa elaborare un'efficace campagna di prevenzione. Il test anti-droga sul capello, oltre a costituire uno strumento predittivo per l'identificazione precoce dell'uso di queste sostanze, potrebbe rappresentare anche una validazione per fare prevenzione e deterrenza. Contraria su tutti i fronti, il SEL, il test del capello nelle scuole rappresenta una misura improponibile. Il contrasto all'uso di sostanze stupefacenti, ribatte la consigliera Chiara Cremonesi, si realizza attraverso la costruzione di un rapporto tra docenti, genitori e studenti che si è fondato sulla fiducia e sull'informazione. Regione Lombardia non può accedere alla logica della repressione.